La manifestazione di sabato, francamente, ho fatto veramente difficoltà a capirne il senso, a capirne contro chi e contro cosa si manifestava. Io quello che penso del tema Carletto e profughi del Carletto l'ho già espresso chiaramente, nel senso che penso che sia assolutamente sbagliato la locazione di 140 persone all'interno di quella struttura. Pur non essendo d'accordo sull'ospitalità dei profughi all'interno dell'hotel Carletto, il sindaco non condivide il senso della manifestazione antagonista di sabato. Quello che Manildo evidenzia è il fatto di non essere stato interpellato. Ho lamentato alla società che ha fatto domanda alla prefettura il fatto che non siamo stati minimamente coinvolti su questo e che un fatto così rilevante per una comunità, quantomeno deve essere, non soltanto per rispetto ma anche perché le cose vengano fatte bene, deve essere condiviso con l'amministrazione. Ho espresso al prefetto l'assoluta mia contrarietà al fatto che vengano poste delle persone lì ma non per una ottica pregiudiziale di chiusura e questo bisogna spiegarlo bene. Il Comune di Treviso sta accogliendo numeri molto significativi di richiedenti asilo. Se si parla di accoglienza diffusa e dobbiamo continuare a parlare di accoglienza diffusa, dobbiamo parlarne con due eccezioni. Uno, cercando di spalmare nel territorio quanti più centri possibili e due, porre in essere delle condotte che questa accoglienza diffusa la possano effettivamente far crescere. Secondo il primo cittadino sono necessari dei bandi, purché l'accoglienza non diventi un business, tema centrale della discussione che affronterà in serata con il prefetto Lega. L'accoglienza deve essere contemperata agli interessi dei richiedenti asilo ma anche agli interessi delle comunità e su questo dobbiamo lavorare per costruire delle reti di accoglienza vere e nelle prossime ore che incontrerò il prefetto ribadirò questi concetti.